Sì, è stato arrivato, credo che ho dovuto andare a questo punto per arrivare a questo punto. Abbiamo tanto tempo qui al BB e godiamoci la serata. Gianni Schiuma questa sera in veste di vocalist, direttore artistico. Il BB mantiene il suo ritmo, è un locale grande, ha tre sale. Una è la BB Queen Ristorante dove ogni sera c'è uno show, c'è dell'ottima musica e un'ottima cucina. Quella dove tu mi stai intervistando è la sala più grande e commerciale che si chiama Space Theatre. E alle nostre spalle c'è l'House Space che è un po' più giovane. Emiliano Ferracuti, direttore tecnico del BB di Skodinner. Quali saranno le sorprese e le aspettative? Da quest'anno abbiamo la nuovissima sala show Queen. È una sala dove la ristorazione è più curata del solido, dove andiamo ad inserire un menù alla carta. Quindi la gente può sentirsi veramente in un ristorante dove andiamo a scegliere, dove possono scegliere le vietanze migliori. E dove con la musica del grande maestro Breviglieri andiamo a fare uno show anni 70, 80, 90 per una clientela più ricercata. È veramente uno spettacolo da vivere, venite a vedere perché è veramente bello. Tony Jacopo è il titolare del BB di Skodinner questa sera? Questa sera Marco Bocci, abbiamo tutto esaurito. Il sabato 24 avremo due ospiti, un DJ in sala house, Alessandro Vinai, mentre in sala centrale avremo Melita Toniolo, ospite. Poi diciamo un grande scoop, sarà un anteprima nazionale Nicole Minetti, sabato 1 dicembre. Paolo Love, il The Voice del BB. Poi stiamo organizzando l'8 dicembre che è il compleanno del BB. Stiamo organizzando il grande capodanno che ormai da 32 anni è la storia della riviera triatica del BB di Skodinner. Ci saranno tante sorprese. La famiglia di Jacoponi, ve lo dico io, ormai da 10 anni che lavoro con loro, facciamo sempre cose nuove, nuove iniziative che in questo momento nel mondo della notte sono molto importanti, efficaci, lineari, con degli ospiti unici. Ricominceremo a metà gennaio sempre con un'ospitata, penso importantissima. Abbiamo i Club Dogo qui al BB, quindi un concerto inter-nos per noi, una cosa veramente molto bella. Insomma, il BB si prodiga tutti i giorni a cercare di fare una programmazione all'altezza del suo nome e sempre per cercare di accontentare più gente possibile, insomma, tutti gli amici che ci vengono a trovare. Luca Gallem, DJ! Per quello che riguarda la musica, cerchiamo più caldo di far divertire, io ci metto del mio per far sì che ne esca comunque un prodotto di qualità. Vi aspetto in futuro naturalmente con tante tante sorprese. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, noi continuiamo a giocare, a prenderti in giro, in maniera simpatica e a trasmettere messaggi sempre molto positivi. Ragogliamoci la serata e noi cosa facciamo? Noi giriamo!